Musica Bisogna essere molto chiari e leali con gli elettori. Questa lealtà, questo patto di fiducia si concretizza indicando le persone con le quali intendo amministrare e indicando i programmi concreti che verranno posti in essere. Siamo con la professoressa Giovanna Bonivento, archeologa e guida turistica, che ho designato quale assessore, eventuale assessore, ai beni culturali ed ambientali, alla pubblica istruzione e all'università. Quindi il tema della cultura, il settore culturale fondamentale. Parliamo oggi con lei di quella che sarà la nostra programmazione, anzi di quella che è la nostra programmazione culturale e che augurandoci di arrivare alla vittoria finale, questi programmi, questi obiettivi si sostanzieranno, si concretizzeranno nell'attività amministrativa. Mi ispiro naturalmente al codice dei beni culturali, all'articolo 6 del codice dei beni culturali e alla Costituzione italiana, là dove appunto recita che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura. Ecco, basta questa frase, la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la Repubblica altro non è che l'insieme dei cittadini, siamo tutti parte di questa Repubblica. Dal punto di vista dei contenuti, quindi per Taranto, dove è cascato l'asino grazie a questo grosso impianto industriale che la sta avvelenando di continuo, recuperiamo contenuti perduti. Per esempio, noi abbiamo un patrimonio ricchissimo di preistoria che è lasciato all'oblio perché nel museo abbiamo pochissimi reperti, ma Taranto è patrimonio preistorico perché già negli anni precedenti aveva la ricchezza di tutto quello che era stato trovato nella penisola per quanto riguarda la preistoria. E già quello è da valorizzare. Il patrimonio preistorico. E non nascondo che vorrei spingere alla realizzazione di, non dico sottomusei, ma di valorizzazione di palazzi vuoti che non hanno nulla dentro per arricchirli con dei contenuti archeologici previo accordo con la soprintendenza e con il Museo archeologico di Taranto. Quindi noi abbiamo molto patrimonio archeologico da recuperare. Per esempio, forse pochi cittadini sanno che la maggior parte dei mosaici della Taranto romana si trova a Egnazia. Furono portate a Egnazia, nel Museo di Egnazia, per una questione di restauro. Dovevano stare lì mesi, pochi mesi. Sono passati più di vent'anni e stanno ancora lì. E appartengono alla città di Taranto. Quindi muoversi affinché rientrino questi mosaici delle domus romane. Perché noi abbiamo un patrimonio di Taranto romana da valorizzare. Abbiamo un anfiteatro nascosto ancora sotto il parcheggio. Parliamo di via anfiteatro dove ci sono gli uffici comunali. Abbiamo il parcheggio, le strisce blu e l'anfiteatro sommerso. Invece se noi andiamo a Catania, a piazza Stesicoro, questo anfiteatro è stato riportato alla luce. Non solo, ma qualora si volesse fare tutto quello che ho nella mente, adottare anche molta tecnologia nuova. Utilizzare per esempio il 3D o l'archeologia immersiva, la realtà aumentata, proprio per poter far fruire e far godere attraverso il digitale il patrimonio che non si vede più. E questo è il lavoro che si crea per i giovani, per chi è in grado di realizzare questi prodotti culturali. E poi c'è un'altra questione che mi spinge ad appoggiare Luigi. L'amore per la città, che è dimenticata quando si cammina per Taranto, non sai, non ti rendi conto dove ti trovi dal punto di vista della memoria. Mancano pannelli esplicativi in questa città diventata anonima e brutta, direi, perché quando non c'è la bellezza che viene favorita, la città si imbruttisce. Invece bisognerebbe valorizzare i quartieri e le vie con dei pannelli esplicativi che raccontino, che spieghino che cosa c'era sotto i marciapiedi, che noi calpestiamo. Penso che ai cittadini farebbe molto piacere. Non come è stato fatto nell'ultima amministrazione, che hanno messo le immagini del museo sparse lungo le sedute dell'AMAT, ma così. Alle fermate dell'AMAT. Per carità, un'iniziativa bella dal punto di vista delle immagini, però non sono localizzate queste immagini, non danno il senso della memoria del territorio. Bisognava fare un passo oltre, cioè localizzarle queste immagini, non diffunderle così a occhio. Come quasi fosse formaggio buttato così, alla rinfusa. Direi a uecchia questo punto. A me invece preme recuperare la memoria del sotterraneo e farla vedere su vivo, alla luce del sole. Noi abbiamo tantissime cose da far vedere. Anche, per esempio, pensiamo a Lugomare di Taranto, a Viale Virgilio. Lo sanno i cittadini che lì c'erano delle antiche terme importantissime sotto il grattacielo di Viale Virgilio. Si può far benissimo vedere di che cosa si trattava. Poi ho in mente un altro bel progettino, quello di mettere, far approdare finalmente a Taranto il festival del cinema archeologico, sul quale ho qualche esperienza. Quindi, ci stanno dappertutto questi festival del cinema archeologico. Ci sono festival del cinema archeologico, ci sono convegni di carattere turistico archeologico, come dire, congressi in cui il turismo e l'archeologia si abbracciano e vengono tantissime persone da fuori. Bene, vi abbiamo dato alcuni spunti. Ecco, un'amministrazione in cui voglio parlare di programmi con persone giuste al posto giusto, con tecnici della materia e in questa direzione ho designato la figura della professoressa Giovanna Bonivento.